A tutte le unità, fermate qualsiasi attività e bloccate Spider-Man! Chi? Chi? Io? Lui? Sarà l'io? Tu! Dannazione Miles! Miles è morale se entra nel settore 4! Ma di chi fa? Sì, è lui! Che c'è? Ho una ragnatela in faccia? Che succede? Miles! È lì! È proprio lì! È girati! Io non vedo nessuno! Prendetelo! Può essere più strana questa giornata! Wow! Credo di sì! E poi io ho guardato mio zio e... Ah, vediamo... Era morto? Prendetelo! 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 Grazie a tutti.